oh sto facendo le classificate su wolf team hai rotto che gioco di merda meglio postal 2 multiplayer ma se nemmeno esiste più il multiplayer competitivo di postal 2 poi guarda quant'è figo sto lupacchiotto me lo spupazzerei tutto salta come un ceppo di legno vabbè dai tanto sta partita non sta andando da nessuna parte stacco wolf team e comincio a scrivere il secondo episodio fammici lavorare in santa pace che già sono in ritardo tanto questa pseudo web series non andrà da nessuna parte non se ne frega un cazzo di nessuno e poi a starotinculo è un canale che non sa per niente che direzione prendere che canale morente l'importante è che mi paghi per i miei sforzi e lo fa profumatamente vabbè vado in camera mia vado a dormire ci vediamo domani a domani e tu chi cristo di un cristo sei oh hi bel posto che hai chi i am marshall the martial artist come sfaccim mai fatto ad entrare qua via dalla mia casa oppure ti mostrerò che non soltanto i gatti riesco a infilare nella canna di un fucile dude calm down non serve arrivere tanto ho solo pensato che fosse un posto a client per la sassi sono entrato dalla finestra del bagno mi hanno effratato sono solo dai passaggio come diavolo fai a conoscere il mio nome di passaggio questa casa non è un albergo e nessuno entra nella mia abitazione guarda che ho il diritto di spararti nei coglioni questo è un paese libero ho i miei diritti dimmi perché non dovrei piantarti un m16 su per il culo non volevo invadere il tuo spazio il stato solo un piccolo error di valutazione gli errori di valutazione costano caro amico ascolta questa stronzata star girando fin troppo vedo via ho finito speriamo che questo nuovo episodio sia ben accolto mi merito proprio un piatto di pasta asciutta delle tre di notte o merda ma che ore sono sono stato tutta la notte a scrivere disturbo posso stare qui per la collazione giro poi mi e nivedo o mio dio uncino americano chi cazzo sei pensavo che tu fossi un personaggio di fantasia perché questa cosa non mi sorprende più di tanto per me puoi restare è il minimo che possa offrirti dopo gli anni di divertimento che mi hai regalato a proposito più tardi partitina a te che notto ti va what's wrong with your voice boh